ciao a tutti e benvenuti nel dodicesimo episodio della mia collezione visto che domani è lo star wars day 4 di maggio 2016 oggi vi faccio vedere la mia collezione di busti della gentle giant gentle giant è un'azienda americana che fa dei bellissimi busti tirature limitate numeri numerati e su tutte le le saghe maggiori di fantasy di film di cartoni eccetera eccetera infatti le puntate successive poi vi farò vedere anche le altre serie oggi cominciamo appunto con con quella di star wars perché domani lo star wars day e quindi ecco questo poi fecerò anche una serie che era in dei mini busti in plastica io recuperai solo quello di look però ce n'erano diversi e questo è il look durante la premiazione del episodio 4 e però guardate che spettacolo c3p o e vi faccio un esempio per esempio ecco questo qui vedete questo è il 1597 di 8.000 a seconda delle tirature ci sono delle di un valore diverso ovviamente boba fett per esempio è splendido boba fett sono 9.000 c3p o sono 8.000 lei ha sono 6.000 ecco lei ha già un valore maggiore perché sono solo 6.000 mezzi poi qui c'è l'admiraglio akbar sono 4.000 ancora un pezzo più pregiato poi c'è obi 1 questa è ma guardate i particolari io li adoro i busti della gentle giant fino a poco tempo fa ne ho comprati veramente diversi poi ripeto vedremo tutte le serie adesso passiamo al secondo ripiano dove c'è il maestro supremo che è tirato a 15.000 ovviamente perché ioda come dar fener vedrete guardate guardate dar fener che bello con la spada così e pure dar fener avrà una tiratura alta perché ovviamente erano quelli più richiesti 20.000 addirittura dar fener ma guardate grepius che spettacolo grepius è bellissimo è troppo incastrato per farvi vedere la tiratura però aspetta potrei farla vedere da qui ecco grepius sono 7.000 che stratagemma che ho trovato sono 7.000 poi c'è dart maul con le braccia con 7 bellissimo sono 10.000 ma anche chubecca è splendido perché guardate con la balestra è tutto vediamo chubecca quanti pezzi sono chubecca sono 7.000 è già una tiratura più bassa anche chubecca è splendido e quindi per lo star wars day la mia collezione di busti della gentle giant vi faccio vedere che al look il casco si toglie e si poggia c'è il casco con tutto quanto il microfono eccetera e quindi questa era la mia collezione gentle giant per star wars se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale perché non è finita ciao